Bocciato definitivamente l'emendamento Lotito nel decreto mille proroghe, quello che avrebbe consentito a Lega Serie A di prolungare i contratti con i broadcasters, quindi con gli assegnatari dei diritti tv, per altre due stagioni, portando il periodo dal triennio al quinquennio, e allora c'è aria di crisi. L'iniziativa portata avanti appunto da Lotito era sostanzialmente sponsorizzata da tutti i club di Serie A e da Lega Serie A stessa, con naturalmente un favore, tutto da dimostrare, tutto da verificare da parte di Dazon e Sky, che si sarebbero trovati nel caso a continuare a pagare per lo stesso contratto non più su tre anni, quindi con scadenza stagione 23-24, ma su cinque anni senza poter rinegoziare le condizioni. Condizioni che invece le emittenti vogliono rinegoziare, ed infatti all'indomani della bocciatura di questo emendamento, che comunque potrebbe essere riproposto sotto altra forma come medesima norma di legge, si sono fatti sentire i vertici di Lega Serie A, ma ci sono anche esperti che stanno candidamente affermando che per il bando diritti tv 24-27, che a questo punto non è più rimandabile e si terrà nel corso dei prossimi mesi, le offerte per Lega Serie A per i diritti tv del principale campionato italiano potrebbero essere ancora più basse rispetto al triennio precedente. Ma è chiaro e facilmente intuibile, l'emendamento era volto proprio a congelare quelle cifre nella piena consapevolezza che altrimenti le cifre si sarebbero ridotte. E allora come si fa? Si andrà alla libera contrattazione di mercato, alla libera negoziazione, come giusto che sia, ma il rischio per Lega Serie A, molto serio, è di incassare molto meno. Infatti si spera che si affacci Amazon per acquistare i diritti della Serie A, ma sostanzialmente non sarebbe così vantaggioso, per quanto potrebbero comunque i diritti essere ceduti ad Amazon a cifre importanti. Non sarebbe vantaggioso perché come sapete Amazon Prime costa 3-4 euro al mese agli utenti ed è un canone che ci consente talmente tanti servizi che non ce ne accorgiamo ed è quasi gratuito. Per cui si avrebbe sostanzialmente una squalificazione del prodotto calcio, una svalutazione del pacchetto Serie A. Quanto meno in termini commerciali per il futuro, perché dopo che hai dato i diritti ad Amazon e gli utenti si sono abituati a pagare pochi euro al mese, come fai poi a riabituarli, dopo anni di da sonna, 20-30 euro al mese, pure 40, a pagare cifre superiori nel bando successivo? Senza alcuna garanzia che nel frattempo il prodotto calcio italiano torni a valere qualcosa di più. E il problema è quello e naturalmente tutte le questioni giudiziarie, anche quelle che riguardano la Juventus, sono molto importanti in questo discorso. Perché se non si sa dove giocherà la Juve l'anno prossimo e se sarà competitiva, chiaramente questo può avere dei contraccolpi su tutta la Serie A. E per qualcuno, chi sta portando avanti l'iniziativa disdetta da Amazon, disdetta Sky, questa è una vittoria. Cioè il fatto che si dica e si ammetta già fin da ora che le emittenti potrebbero offrire cifre molto più basse o addirittura rinunciare ad offrire alla Serie A per i diritti TV, viene visto come il risultato della campagna di disdette. Campagna di disdette che però non si sa assolutamente a quali cifre sia arrivata. Si era sbandierato 500.000, quindi mezzo milione, poi ci sono state altre fonti che hanno parlato di astento 6.000. In effetti gli stessi fautori, gli stessi promotori dell'iniziativa di sabotaggio ammettono che in realtà non lo sanno neanche loro, anche perché le disdette sono partite meno di un mese fa, quindi non sono ancora in alcuni casi effettive, e molti invece avevano acquistato carte prepagate che nel frattempo non sono ancora scadute. Dicevo, probabilmente questa situazione è caratterizzata soprattutto dalla svalutazione del prodotto calcio che centra relativamente con la situazione della Juventus, cioè è qualcosa che ha radici ben più profonde. Naturalmente i rischi di qui ai prossimi mesi, anche di un'ulteriore penalizzazione della Juventus, possono incidere. Così come abbiamo visto per l'offerta, che nel frattempo è scaduta da parte di Dazon, 12 mesi con il 30% di sconto. Come vi dicevo in un precedente video, sostanzialmente è finalizzata ad incassare un numero adeguato di abbonamenti prima che parta la campagna abbonamenti estiva, e quindi congelando anche in questo caso gli incassi senza dover sottostare poi al rischio di un calo di abbonamenti, perché nel frattempo la Juve è stata penalizzata, o ci si rende conto che la Serie A è diventata meno appetibile. Ma chiudo proprio su questo. Siamo proprio sicuri che con una Juve penalizzata e che non combatte più per lo scudetto la Serie A diventi meno appetibile e non più appetibile? In realtà c'è anche chi sostiene il contrario appunto, e cioè che dopo anni di dominio della Juventus la Serie A era diventata in qualche modo noiosa, mentre adesso un anno lo scudetto lo vince l'Inter, un anno il Milan, un anno probabilmente il Napoli, l'anno prossimo chi lo sa, diventa più avvincente e anche all'estero più interessante. Ma nel mezzo c'è una necessità, alzare il livello della qualità del gioco, lavorare con le riforme a livello strutturale, cosa che si dice da anni ma per anni non si è fatta. E poi puntualmente quando non ci qualifichiamo per i mondiali, o quando appunto i diritti TV per la Serie A diventano qualcosa a basso costo, ci svegliamo di botto e capiamo che tutte le elucubrazioni sulla bellezza del calcio italiano e sul primato del calcio italiano non erano altro che dei bei sogni.